La Roma sì e il Feieno! Mamma mia quanto godo! Roma Feienord ai quarti di finale di UEFA Europa League Non sottovalutiamo nessuno Concentrazione al massimo Non dobbiamo fare la fine Della nostra Coppa Italia Ma ragazzi abbiamo la strada spedita Verso la finale d'Europa League Attenzione! Il Feienord è una bella squadra Hanno buttato fuori i burini Dall'Europa League Iem ho sbattuto la porta A Coppa on Fasher 25 de Maggio Però ragazzi Quest'anno sono una gran bella squadra Devo dire Al di là delle gestioni Sinisterra Facendo comunque una grande squadra E in ambito europeo Il Feienord non si discute Ma ragazzi dovessimo qualificarci Una tra l'Everkosan Ottavo nono Nel campionato della Bundesliga E il San Giluas Qualcosa del genere Insomma squadre alla portata Della Roma Dobbiamo assolutamente Qualificarci prima di tutto Contra il Feienord E ragazzi Clamoroso scontro italiano In Champions League Tra Napoli e Milan Io non ci voglio credere Napoli-Milan Nei quarti di finale Di Champions League Era abbastanza prevedibile Se vogliamo parlare Di previsioni Però Sarà veramente Una gran bella sfida Il Napoli è la strada Spianata verso la finale Per me si è assolutamente Molto superiore Rispetto al Milan Ma attenzione Maldini ha vinto 5 Champions League Il Milan ha Una buona squadra In ambito europeo Quindi comunque Il Napoli Deve affrontare Questa partita Come d'altronde Riesce Riesce sempre Ok Stanno spaccando Il campionato E l'Europa E Allora Prima di tutto Leggiamo un po' Tutti quanti i sorteggi Perché il Benfica Anzi l'Inter Affronterà il Benfica Nella doppia sfida Il Milan affronterà il Napoli La Juventus Affronterà lo Sporting Di Lisbona La Roma affronterà Il Feinord La Fiorentina Il Lec Pozan E la Lazio Vabbè Allora Tralasciando gli scherzi Ragazzi Parlando della mia Roma Dobbiamo assolutamente Qualificarci Andare avanti Tra l'altro La prima partita È in Olanda Quindi dovessimo perdere Come d'altronde Sempre negli ultimi anni Possiamo andare a fare La rimuntata In casa Allo stadio olimpico Davanti a 70 Mila voci 60 mila voci Ragazzi Nel Solito sold out Della cornice Giallo rossa Della squadra Della capitale Insomma io non mi preoccupo Per niente Di questo Di questo sorteggio Potevamo beccare Lo United Ragazzi ma ci rendiamo conto Potevamo beccare Lo United E poi la Juventus Non è che sia andata Poi così tanto bene Sporting Lisbona Attenzione D'altronde Lo Shakhtar A passare il turno Facendo 7 gol Clamorosamente Da Da passare il turno Facendo 7 gol Allo Shakhtar Che non sarà Una grandissima squadra Però 7 gol Sono tanti Comunque in ambito europeo Quindi attenzione Dobbiamo assolutamente Ehm Perché Juventus Roma Ragazzi è possibile È possibile E non poco Ma attenzione D'altronde Perché comunque La Juventus È capitata Nell'altra Dall'altra sponda Dove comunque Affronterebbe lo United Nel caso passasse Ehm Contro il Lo Sporting Lisbona Sempre se dovesse passare Il Manchester United Che comunque Indubbiamente È una delle squadre Più forti della competizione Assieme a Roma E Juventus Abbiamo eliminato La Real Sociedad Quindi ragazzi È una grande squadra La seconda più difficile Che ti poteva capitare L'Arsenal È uscito Abbiamo eliminato Il Salisburgo Insomma Finora Grandissima Europa League Da parte Della Roma Quindi non mi devo preoccupare Assolutamente Di questo Sorteggio Ma ripeto Ragazzi È pur sempre Una Coppa Europea E attenzione Attenzione a questo Feyenoord Molti avranno voglia Voglia di riparsa Parliamoci chiaro Perché Sapete Come va un po' Il tutto Sono mesi Che gli rinfacciamo Quella benedetta Coppa vinta Bisogna vedere Comunque i giocatori Li hanno Indubbiamente C'è Gertruida Che ha giocato Se non sbaglio Anche la finale Di Conference League C'è Coccu E me lo ricordo bene C'è veramente Grandissimo calciatore Ragazzi Gimenez Là davanti Non hanno più È vero Sinisterra Però comunque La squadra Gli è rimasta E ragazzi Mamma mia Io Io sono Incredulo Ok Perché Non me l'aspettavo Di solito La Roma Ha più sfortuna Nei sorteggi E anche perché Poi È una strada Spianata Verso la finale Viste Considerando Che Becchi Una Tra Leverkusen E Glui Che tra l'altro È una bella squadra Sto Glui Ragazzi Che comunque Ha passato Clamorosamente Il turno Ragazzi Giocano per calcio Dinamici Veloci Ragazzi Dobbiamo assolutamente Prestare attenzione Ma arriviamo al sotto Secondo me Chi passa Tra Milan E Napoli Ragazzi Dovete farmelo sapere Nei commenti Perché Questo è qualcosa Di clamoroso Perché ragazzi Mamma mia Quarti di finale italiani Sarà veramente Una sfida Tostissima E tra l'altro Andando a vedere Il sorteggio In sé per sé E La vincente Tra Milan E Napoli Va contro La vincente Di Benfica Inter Ok Quindi non vedremo Una finale italiana Però attenzione Perché dall'altra parte Ci sono Real Chelsea Manchester City E Bayern Monaco Squadre troppo Più forti Rispetto A parte magari Tutte Sono troppo più forti Rispetto a quelle nostre Però ragazzi Attenzione Perché se siamo arrivati Fino a questo punto C'è il Napoli Di Spalletti Che sta facendo paura A tutta Europa Fa timore A tutta Europa Una classifica Incredibile Più 18 punti Sulla seconda Beh Bisogna vedere Però come ho detto Il fattore Milan Va considerato Maldini Che ha vinto 5 Champions League Che sa caricare i suoi Sicuramente E in ambito europeo I rossoneghi Stanno facendo Veramente un gran lavoro Sono cresciuti Tantissimo Rispetto Allo scorso anno E quindi Attenzione La Fiorentina La Fiorentina che becca Il Lek Poznan In Conference League E andando a vedere La classifica Del campionato polacco Lek Poznan E terzo E la Fiorentina Ha fatto 5 7 con l'Albraga Se non sbaglio Hanno passato il turno Contro Oddio Contro chi hanno passato Il turno Agli Ottavi Mi viene manco in mente La squadra Col Sivas Col grande Sivas Con i turchi Del Sivas Quindi ragazzi Queste due squadre Sono sicuramente superiori Rispetto all'Ek Poznan E quindi la Fiorentina Anche la strada Spianata Verso la finale Di Conference League Ok ragazzi Quindi complimenti Alla piola Di Vincenzo Italiano Noi ci vediamo Alla prossima Dai Roma Dai raga Dai Roma C'è il derby Eh